Noi siamo preoccupatissimi perché possa continuare a passare il traffico nel vecchio tunnel, perché non è che il problema sta solo nel costruire e andare avanti al tunnel nuovo, il problema sta a quanto regge il tunnel vecchio con tutte le opere di attraversamento fra uno e l'altro che sono state fatte. Cioè noi non possiamo continuare ad essere qua in bilico dal primo temporale che capita o una qualsiasi condizione atmosferica avversa. E tra l'altro voglio ribadire che i danni non sono sulla valle, i danni sono sulla provincia intera e anche sulla regione. Cioè basta chiedere al mercato di Cuneo cosa succede. Quindi noi non possiamo più continuare così. Beh, ci rimane, non so, chiedere l'annessione alla contea di tenda. Chiederemo tutta la vallata, chiedere l'annessione alla Francia. Cioè non si può non avere l'interesse nazionale su un traffico internazionale. Sono qui per dire che il popolo cunese è conosciuto come, o chiamato, i bugianen. A me pare che i bugianen sono altrove, non siamo qua. Qua stiamo manifestando e stiamo esigendo la combinazione del tenda bis. Non dimentichiamo che noi abbiamo anche la ferrovia Cuneo-Nizza che ha anche dei problemi. 40-50 anni fa questi collegamenti erano garantiti in un modo diverso. C'era un tempo di percorrenza che era inferiore rispetto a quello attuale. La mia, peraltro, è una, come dire, scettica, disillusa, disincantata presenza, una solidarietà di questo genere perché qui non funziona nulla, insomma, cioè, siamo di fronte a un giorno ci sono i problemi con i francesi, un giorno il governo non vuole le opere, un giorno le opere non le vogliono i burocrati, un giorno le opere non le vuole la sfortuna, io non so che cosa, ma qui non si fa mai nulla. Con quanto amministratori di valle siamo assolutamente convinti che qualsiasi tipo di manifestazione, come questa che però ha come protagonisti i sindacati dei lavoratori, vada comunque supportato dall'amministrazione perché è importantissimo per gli abitanti della valle e per tutta l'economia della vallata. Lo finiamo questo tunnel di tenda? Ce la facciamo a vederlo finito? Però sono sicuro che sarà finito, il problema è sapere quando, perché purtroppo adesso è un momento in cui c'è la stagnazione. Siamo tutti in attesa del verdetto del Consiglio d'Estatto che autorizzi l'ANAS a firmare con Edil Maco il secondo classificato per riprendere i lavori. Se questo non succederà purtroppo si andrà verso una gara europea che allungherà certamente i tempi. Speriamo di no, ci stanno mettendo in crisi in un modo impressionante. Noi speriamo in una ripresa il più presto possibile, proprio per l'economia del paese e di tutta la valle. Ne sentiamo proprio bisogno e per noi è fondamentale questo traforo, proprio fondamentale. Ma ci credete ancora? Dunque, io sì.